Sei gelosa di Rosario? E quale donna non lo sarebbe? La vita privata va alla grande Nonostante i tuoi tanti difetti, io ti amo E mi? Ma c'è qualcuno di troppo? Se si fida, posso ospitarlo io? Non se può accampare così Ma se è per una giusta causa? È colpa del geometro negri, se mio padre è finito in ospedale Merita una lezione Ma il piano? Ci hai già pensato? Devo aprirla in tempo record Domenica e lunedì Sembra che tu non abbia mai fatto altro No, sta mettendo i soldi nella giusta Su Rai 1 c'è Questo è per te La ladra